per gli oltre 3.000 della Palevangelisti, il quarto di finale di Coppa Italia. Una Sir Safety a due velocità si è fatta infilzare in rimonta da Piacenza nella gara che si annunciava come la più equilibrata delle quattro dei quarti di finale di Coppa. Infatti è finita il tie-break, Perugia per ora avanti 2-0, 25-17, 25-23, poi la rimonta di Piacenza, 23-25, 21-25, 13-15, i parziali dell'incontro. Andiamo a sentire le parole nel dopogara del tecnico della Sir Lollo Bernardi e del patron Giro Sirci. Per il filo è arrivata una sconfitta probabilmente nel momento meno indicato, visto che era una gara da dentro fuori. Vabbè certo, se la guardiamo da questo punto di vista qua, sicuramente era una partita dove se dovevamo perdere non era questa quella da perdere. Ma queste sono le regole dello sport. Adesso abbiamo perso, è inutile recriminare, dobbiamo solamente analizzare, essere bravi a guardare cosa non è andato bene, su che cosa dobbiamo migliorare. Non è che io credo tanto che le sconfitte fanno bene, le sconfitte fanno star male, è giusto che stiamo male e di conseguenza andiamo avanti. Ecco, è difficile magari a caldo analizzare cosa non ha funzionato. Comunque, un primo set praticamente perfetto. Un secondo set più in difficoltà, soprattutto in ricezione. La gara comunque è stata messa dalla parte giusta. Un terzo set che sembrava in pugno almeno fino a metà. E poi che cosa? Che cosa ha cambiato la gara? Ma sai, sono anche dei momenti, degli episodi. C'è stato un momento che battevamo molto bene e loro con la palla staccata da rete continuavano a far punto perché non eravamo tanto ordinati a muro. E quindi, sai, su queste cose qui dobbiamo lavorare di più e meglio. Poi, certo, sai, quando perdi che fai anche più punti della squadra avversaria la differenza è sempre un pallone. È chiaro che quel pallone lì dobbiamo allenarlo per farlo noi e non loro. Ecco, è il primo tiebreak che giocava la sua squadra, se non sbaglio, da quando è arrivato. Forse questo l'ha un po' sofferto la sua squadra all'inizio, visto che oppure era più l'inerzia della gara che era dalla parte di Piacenza e quindi l'inizio del tiebreak che poi alla fine è stato decisivo perché dopo alla fine si è giocato punto a punto. Ma loro sono partiti con due ace, quindi è chiaro che sono partiti con questo vantaggio che poi si è allungato un attimo con un altro ace di Hernandez che gli ha portato il vantaggio di quattro punti. Siamo stati bravi a rientrare, abbiamo avuto anche il pallone per fare il 12 pari, loro ci hanno murato, però è chiaro, dopo quando perdi 15-13 parli sempre di un pallone. È chiaro che di fronte oggi si sono scontrate due squadre con dei giocatori di altissimo livello, quindi merito a Piacenza, brava Piacenza che andrà a giocare le Final Four. Siamo col presidente Sirci, una sconfitta che brucia sicuramente perché era una partita, insomma, uno scontro da dentro fuori e questa Final Four, insomma... Erano i quarti di finale, quindi ecco, era una finale, erano i quarti di finale e una finale e quindi era una finale che dovevamo vincere in casa. Non abbiamo dovuto approfittare, siamo un po', come si dice, abbiamo abbandonato al secondo set, vinto e pensavamo tutti quanti che siamo tornati a casa al 3-0 felici e contenti, invece siamo fermati. Loro hanno incrementato e quindi questo incremento è stata veramente in coincidenza con il nostro calo e quindi abbiamo perso la partita perché loro comunque hanno, diciamo, cominciato a non sbagliare niente, hanno giocato in un modo perfetto, avete visto, difendevano, battevano bene, muravano, appena ci muovevano, quindi evidentemente anche questo tipo di caratteristica, loro hanno vinto anche la partita, non solo l'abbiamo persa noi, loro hanno vinto. Beh sì, Piacenza ha giocato un po' la gara perfetta, no? Ha fatto... ci sono trasformati e ecco, è successo che l'abbiamo persa, ma adesso andiamo avanti, via, cerchiamo di dimenticarla perché... Mi spiace un po' Sorse, soprattutto per questo pubblico, insomma si meritava Bologna la Final Four. Eh sì, si meritava Bologna, e vi devo dire... Cosa c'è di buono da prendere da questa gara? Insomma, le sconfitte a volte servono magari, no? Che ricominciamo da zero, tutte quelle sconfitte vittorie, 14, 15, 16... Ricominciamo da zero, siamo più spensierati, non abbiamo quel peso sulle spalle delle vittorie ad ogni costo. Adesso Trento e la Champions, ci si gioca il secondo posto in regular season, buona parte del passaggio del turno del girone di Champions, momento delicato. No, sono fiducioso, sono fiducioso che reagiremo, sono gli episodi che ci devono dire che se giochi male, perdi a pallavolo e se giochi bene vinci.